Cento vetrine, un nome, una garanzia. Anche se gli spoiler ci porteranno molto lontani, in realtà le scene si allungano, diventano più lunghe, più difficili, più elaborate. E a farne le spese sarà la povera attrice Linda Collini. La vedete? Un rottame. Una schifezza. Praticamente una merda. A che ora passa il 22?